Salve a tutti ragazzi e bentornati a me Shusha, siamo tornati con Tekken 8, riprendiamo da dove ci siamo salutati, quanto è cattivo Katsuya C'ha delle sopracciglia che se tu vai dall'estetista paghi mezzo milione di euro per tagliartele veramente Comunque riprendiamo la storia e si va Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina, è importante che tu torni all'origine Jin, tu non ci sia solo tu Non sei un'altra persona, non ci sia una persona, non ci sia una persona, non ci sia una persona Ok Tutti che credono in lui Ok Ah ma che è sta scena stile Avengers, ma che figata ragazzi Eccoli i protettori del mondo Che proteggeranno a loro volta le spalle a Jin, che deve recuperare il demone E qua la situazione è quella che è Ho ancora un asso nella manica Puoi farmi guadagnare tempo? Puoi compter su toi? Osserva! Ora inizierò il rituale per esorcizzare il demone Rilascio del sigillo Ragazzi E' chiaro che gli italiani hanno sempre una marcia in più, ma qui avevo grigia Gli ha dato una testata Oh ho ho Beh Ma ragazzi Se in lei C'è i Yashi Questi hanno dei conti in sospeso Reina Ok ragazzi Lottiamo Infatti Quando combattevo con Contro Jin Scusate il contrario Quando con Jin abbiamo combattuto Cioè io effettivamente avevo notato delle mosse un po' Che mi ricordava qualcuno No? Però vabbè Ero limitato al potere del ghiaccio Oh! Sì del ghiaccio Vabbè stanno incogliendo ragazzi Scusate Vabbè allora E allora Come vuoi Bella Che lei è alta quanto True Devil Katsuya Eh finita ragazzi Finita Va pure offeso me pare No? Oh Bella Peccato che non gli ho tolto niente Tecnicamente ha funzionato più di una volta Però vabbè Oh ragazzi Guardate ce l'ho in alto Io l'attivo subito allora Inchinati a me Ah no cavolo Eh vabbè L'ho usata Eh però ti devi un attimo fermare Ragazzi E io capisco che Fermati Stanti buono Vedete Quella mossa La faceva sempre gli acci Mannaggia ragazzi Io ho i ricordi miei Poi devo leggere ancora i vostri Sotto nei commenti Perché i video ancora non sono usciti Ma non lo pushare No Ma che gli dici Vai anni vieni Poi mi devo togliere gli occhiali Regà Eh non avevo notato che c'ha tipo Un occhio con petto Tipo Murray Il gioco È molto tecnico Come tutti Chiaduro Eh mamma mia È stati buono Katsu Ma che t'ho fatto Ma che t'ho fatto E vabbè E vabbè E allora Vabbè Ah è stufato Fammi con Oh Vabbè Niente Niente Non si può lottare con lui Non si può lottare Eh io l'uso Eeeh Grazie So a combattere col demonio C'è non lo so Ragà Serafino là Se sta Oh no Fatemi prende tempo Poi magari non sta a fare niente No Ecco adesso Cazzottone in bocca Fa un calcio Bella Bella Signor Mike Adesso Adesso La sto pushando Adesso si dai Questa dovrebbe Essere abbastanza No Guarda quella caccoletta Quanto me la farà pagare Bello Eh è che tu va bien vada c'è canto di scala se io rimo a lei arredo treni gli anziani non dovrebbero essere così insistenti la barriera di contenimento è già pronta tu e i tuoi peccati sprofonderete nell'oscurità per sempre l'italia l'italia nel mondo niente male per essere italiano no hai fallito miseramente eh Claudio sì ma lo faccio per voi ho provato a usarti questa è la mia punizione ormai sono pronto da molto tempo tuttavia non mi sacrificherò in vano veste l'u! Jinkazama adesso toccati nooo nooo grande grande nel cuore nel cuore e beh è rimasto volvere però allora ferito guardate 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 e non mi pare guardate Azazel mei, varu agakio, ima skosh, jikane kitchio kawo Ah, ha fatto in modo che Azaziel li possa uscire dal corpo Eh si, quello è schiopato di niente niente Io non l'ho mai immaginato Grande Claudio Grande Claudio L'ha fatto per noi, capitolo 8 Boom di origini La rosica Credo che questo è il progetto Non lo so, non lo so Non lo so Non lo so Ripeto, io e Nina abbiamo una storia pluriennale diciamo E lei aveva una sorella che si chiamava Anna Oh Oh Non lo so 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 Ah, è interessante, è interessante L'ogre 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 E lui chiama Oni Come demone L'ogre 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 Non Ecoutez tous, nous sommes sur le point d'atterrir à Yakushima Vabbè Non c'è cascato male Jin Vabbè Ahahah Sette anni fa Si sono riusciti Vabbè Non c'è cascato male Jin Ahahah Quindi ragazzi Sette anni fa Si sono perse le tracce Di Junkasama Che era la mamma di Jin E' vero, è vero E' vero E' vero E' vero E' vero E' vero Oh 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 E' vero E' vero Eh E' vero Sì Ma Jin che ne pensi di menarci Ho capito va bene Certo Ok Allora ragazzi lei occhio che c'ha Delle combo bastardissime Mi ricordo quei calci Stavi mezz'ora per aria Però è pure vero che Dobbiamo Aiaia dobbiamo risvegliare il demone che è in noi A suon di calci in bocca Lo faremo Ma perché hai fatto sta roba Penso per doveri di drama Oh abbassa le mani Jin ce l'hai presa? Lei contenta? Ma io Oh Stare un po' attenta insomma Ok Mo se li becca un po' Un po' dei papagni se li becca Ragazzi Questa quel cervo guardate lì Come uno stambecco Ho detto non credo Cheat Ah si eh si eh si eh vabbè Ah si eh si eh vabbè Ah si eh si eh vabbè Ai 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 Do un bel calcione Vorrei finire in maniera spettacolare Sei io Bene Era questa Deca destro destro va A casa Così mori gerato Mori gerato Per non fargli troppo male Ah Ah quindi Sti due So A A B Sì 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 Il mio cuore... C'è stato un po' di prima volta la mamma... Jin? Cosa c'è? Oh... Il mio cuore... Il mio cuore... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I robotoni Eppure di questo conoscevo un sacco le mosse Perché da ragazzino il robot è figo When the time comes You must protect him Forza Porca miseria Eeeh quanto gli ha tolto quel calcione Proteggerò Jin a tutti i costi No no me la parete Oh Jack 7 Jack 7 Si è ripresa la vita Lo sapevo Ecco questa mossa è bastardissima Però è simile A quelle di Kuma e E pada Eh se riprende la vita è rotto Secondo me lui sta combattendo qualche Lotta interiore Magari con Ponevi il Jin Chi lo sa Eeeh Fermate Bello Bello Eh ma coi missili si Che Oh cavoli raga Ah noi siamo dei figli eh C'è King con la moto o tanta roba I can't let kazuya go about doing whatever he wants And I want to offer jinn my help Tommo ni tata kattekuriru koto aratomete kacassu Oh No to the world And I can't look forward to the whole world Just anton po la fete ma che comunque è una figata ragazzi che stiamo vedendo let's go fatta il tamarro cioè uno se si impegna a pensare a cose più tamarre secondo me non ci arriva dai Lars no aspetta ma che è operazione ribellione si tratta di una battaglia per più persone con orde e questo però era la Tekken Arcade si chiamava una roba del genere e che il dottor Bosconovic si sbaccava così io mi ricordo beh capiamo raga capiamo ma che roba è Alisa si si attivazione dell'Isa ok ok ma che roba guarda guarda ma che sta a fare dicevo ragazzi Alisa è non so se fa di cognome Bosconovic quindi immagino che ci abbia qualche masaka masaka ok ragazzi mi devo fa strada e poi ragazzi non so se ve l'ho raccontato ma beh non riesco a raccontarlo perché che figa sta roba ma siamo oltre il pensabile guarda guarda questo è Avengers Endgame anzi manco ok tocca a lui bello bello sono lì con la roba Sara e vabbè c'è sadalmente tanta roba qua oh ah Jack va a fancubbolo e con la tuta Violet qua ragazzi sono un atto livello aspetta aspetta dobbiamo far fuori prima lui oh ragazzi mi sto impegnando eh e cosa sarebbe che fa questa sarebbe ragazzi uso le mosse quelle ignoranti con questo ovviamente eh sì dopo un ninja prova prova ma lui c'è una sempre due a torso oh ma mia ragazzi c'è io non ho parole che altro perché così non riesco a leggere quello che si stanno dicendo oh vabbè arriva il ragazzino anime un po' depressino oh no quella del caffè creì che abbia conectado ese golpe tu bist doch Azucena von der Ortiz farm stehst du jetzt auf der seite der G Corporation hm en fin si estás con la corporación che será un excelente publicidad para mi café además no crees que el café ayudará alcanzar la paz mundial vabbè sei tedesco d'altronde si in teoria si il cattivo sei tedesco anche se avrei preferito avere questa col caffè la bona non mi provochea che io so un fischiello tutto ormonoso yoho non l'hai manca ammazzata non l'hai neanche ammazzata ok adesso ah veramente meto una guerra qui è che non parla di café ah ok bastava quello eccolo bollo no lo sei dall'altra parte no questi due c'hanno esatto mi hanno pagato questo sta scannando è la tua culpa che sto qui adesso cosa ti parli ti parli che avresti il giudizio ricordi paul aspettavo di mantenere la tua promessa ora che mi ha vinto sì non mi lascio non mi lasciare non mi non mi oh oh paghi giudizio chiamati niente 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 non ha vinto quindi che ti devi pagare eh ragazzi è un avido è un avido stupido avido porca miseria che pavido tutti i picchiature ci sono un po' di cliché no stai fermo vabbè niente ragazzi mi sta pistando niente che devo fare infatti basta parlare di soldi ma questo ragazzi abbiamo rubato i soldi è finita è finita è finita blu che c'è sto destrone il pugno è sempre stato quello no è arrivato il momento vedete poi ci sono tutte sottostorie sottotrame tra vari personaggi che si portano avanti tra vari Deccan non farai intendere ah questo cammina è l'userva ragazzi lo faccio così che c'è c'è l'ammeroso chi sta in mena che sta in mena che sta in mena forca miseria però fogo ragazzi ragazzi miei soldato di elite io non sto capendo che sta succedendo in questa battaglia si prevede e là di combattere great king dai king questo mina ragazzi guardalo king che va a combattere contro quelli forti che è davvero king smash come se lo alza assaggiate i miei suplex dobbiamo di combattere di combattere di combattere di combattere Dallo King, the one and only Tiger man Steve puntalo te, capirai Questo ha i pugni nelle mani Guarda come schiva quanto sei ignorante Bello Bello power power Guarda che cazzottoni dà oh Vedi ragazzi lui non dai gas Ma mia quanto mena Ti me lo ricordo ragazzi io l'avevo provato questo Non mi ricordo che il Tekken era E' stato il primo Tekken dove hanno inserito Steve Però vedete c'ha uno stile combattimento particolare Non prende i calci Non li tira X e cerchio sono schivate Io lascerò il resto a te Oh Victor Eh mazza Victor Ah prima è dei pollenti dai Cazzozza Vieni qua Vieni qua Boom Ma dai l'impressione ragazzi Se uno di quelli che si muove tanto non fanno niente Porco il sciuto me l'avrei preso Porco il sciuto me l'avrei preso E' un maggiaddeo Oh 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 Spettuccialo bravo Se è dallo Victor Mission accomplished Quali vostra situazione Laas 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 Laosa Laos Laas 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 Grazie a tutti Forse ci avranno qualche beef tra loro Eh si forse qualche beef Eh si qua c'ha beef Il dragone divino Sì ragazzi questi avranno dei beef Scrivetemelo sotto nei commenti Perché poi li leggiamo Può approfondire la storia Guarda dietro come si è piano Però devi sta buono tu eh Vuoi essere il dragone divino Guarda il vecchietto Ah forse ci fa la stessa mossa Ah non gli hai tolto tantissimo eh Devo dire Stiamo ancora al sicuro Me la potrebbe fare lui Eh me la fa lui me la fa lui me la fa E invece forse no E invece si e forse no E invece si e forse no Sotto 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 signore Cheee Sì! Sì, sembra che sei molto ben informato Quindi, raccontami più di te Scontri tra Viola, ragazzi! Nina Williams, quindi l'arma è Jack Otto Ma l'ho quasi presa, eh? Però pare un po' troppo, no? Non ti pare? Ah, io ho fatto la battuta Ari, non ti pare Ho perduto Sta la trota, come ha scroppiato Eh, ma via qui No, però, ragazzi, questa tizia ci deve avere qualcosa Sono molto curioso di andare a giocare la sua storia Come ho detto, l'episodio del personaggio In modo tale che magari capisco chi è Però non so che volermela scolerare prima E' ferma No, no, dicelo, dicelo Io vedo Tu sei Mishima Nooo L'hanno tradotto male, gli ha detto Vedo che sei Mishima E l'esplosione ha fermato tutto Te lo stavo per rivelare Lo stavo per rivelare Se è dopo la mia vacanza No, secondo me quello è Yachi A cui hanno trasferito A cui hanno trasferito magari Dico l'essenza No, l'essenza Non lo so Però dentro il corpo di quella ragazza Allora Allora Un dolore immenso Un dolore immenso Ma come fa a provarlo il dolore Oh Che Oddio La rovescia alla pelea Uh, uh Eh, ce l'hai fatta Sì Oh, bella, bella, bella Lasciale in alto Brava Brava, brava Sì, sì, sì Rimani in alto Ah Jack Jack I due colpi fanno un po' schifo Lì Questo è il Jack originale Oh, l'hanno spinto Io stavo a dire Ma che prendi da pugni robon Mi pare una grande idea Cioè Ce l'hanno fatta Sì Sì Grazie a tutti Grazie Ora Ho fatto Ho fatto Ho fatto No 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 Che te ne devi stare zitta Zitta E invece Guarda che arriva E' il cornuto Unde E' il 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 Es Sì E' il non me lei sta provando a attivare la forma demoniaca perché in punto di morte vi ricordate lo che hanno detto una roba simile qui ci sono i ragazzi che ci sono qui c'è che ci sono il vado Ah, lo sapevo!